Ciao, questo è un nuovo video che faccio sui film che mi sono andato a ricopiare Il Comandante, che è un film italiano che è uscito il 30 di ottobre dell'anno scorso, nel 2023, anche se Mareccio è uscito come film, a qualche mese sono riuscito a guardarlo, dopo anche essendo un film italiano, basato sulla guerra, che come genere tocca a Mareccio, drammatico guerra, che essendo Mareccio italiano che tocca a questo genere qua, l'ho voluto andarmelo a recuperare, a guardarlo, che ho visto che magari, la parte che come regia è di questo Edoardo De Angelis, che come attore c'è per Francesco Favino, è un film che dura quei 120 minuti, 1 ora e 56 più o meno come film, però essendo Mareccio la guerra, l'ho voluto lo stesso Mareccio, andarmelo a recuperare, che parla più che altro sulla seconda guerra mondiale, ambientato nel 40, che c'è questo Salvatore Todor, che è un comandante della margarina militare, con un magari destino iscritto, Mareccio, nel nome a capo del sommergibile cappellini, nonostante un incidente che abbia provocato, magari forti dolori alla schiena, che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità, ma magari contro Mareccio la volontà della moglie, lui magari vuole lo stesso Mareccio continuare a lavorare, ma questo comandante Todor non sa stare lontano Mareccio da questi flussi, però nel stesso momento durante la sua ennesima missione ha visto una nave belga che, malgrado il belgio sia formalmente neutrale, attacca il sommergibile italiano, che sempre questo comandante Todor e la sua squadra rispondono al fuoco e affondando Mareccio la nave, ma Todor decide di mettere in salvo i naufraghi agganciandoli al suo sommergibile, ma trascinandoli verso Mareccio il porto neutrale e sicuro di Santa Maria delle azorre e accettando il rischio di navigare in emersione fino a così magari finito, perché la legge del mare per lui conta più di quella della guerra, che più che altro magari la trama di questo film era questa qua, che a chi magari può piacere i film magari sulla guerra, magari come film anche se è italiano, magari ci poteva magari anche stare come film, anche se magari i film magari italiani, magari su certe cose non sono migliori, magari a chi piace magari i film sulla guerra, sicuramente magari uno di quelli magari da andarselo a recuperare come film, che ho visto anche dalle recensioni, che magari la maggior parte erano tutte positive, che adesso anche se sono passati magari è passati magari anche qualche mese dalla sua data uscita dal cinema, che adesso lo si può magari magari andarselo a recuperare, magari se qualcuno ha qualche piattaforma, qualche abbonamento magari su qualche piattaforma lo si può magari anche, lo può magari anche recuperare, lo magari anche gratis come film, come film magari confronto ad altri, magari un attimino magari un po' più lungo, quelle quasi due ore, e niente che magari come al solito, quando faccio questi video sui film, magari lascio il video trailer, magari il cast di tutti gli attori che hanno partecipato, magari su questo film, magari si riesco a trovare qualche altra informazione sempre a questo film, magari sotto sotto magari in descrizione, e niente che magari anche da parte mia, anche se è un film italiano che come era girato ci potrebbe magari anche stare, anche se magari nel film parlano più che altro, magari in dialetto così, che magari come cosa ci potrebbe, ci potrebbe magari anche stare, ci potrebbe magari anche stare, che parlano magari durante il film parlano magari in dialetto, però nel complesso magari come è fatto questo film, magari ci potrebbe magari magari anche stare, magari anche stare, magari anche stare, magari anche stare, magari è uno appassionato a questi, magari film di guerra, magari, magari può essere, magari anche un bel film da andarselo, magari a a recuperarselo, anche se è un film, anche se è un film, magari italiano, che come ho detto magari prima, come film ci potrebbe magari anche, ci potrebbe magari anche stare, magari nel complesso, e niente, quello che potrebbero magari anche stare, anche se è un film isuzu, e quindi ci potrebbe anche stare, anche da anche resser, che cosainea un bel Jungle Noce ne potrebbe comunque ti può essere usare l'unità. E quindi è un film HELDO, anche se potevo magari dire su questo film magari, l'ho già detta, e al massimo ci vediamo magari sicuramente magari più avanti, con i miei soliti video sul mio sempre sul mio canale per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao